In base alla riorganizzazione della macchina giudiziaria avviata dal governo Monti, anche la sede distaccata di Sansepolcro del Tribunale di Arezzo va verso la chiusura per il 13 settembre. Il decreto 152 del 2012 stabilisce l'accorpamento delle sedi distaccate presso le sezioni provinciali. Entro il 1 maggio passeranno al Tribunale di Arezzo i nuovi procedimenti relativi ai decreti ingiuntivi, cautelari, possessori urgenti, sfratti, volontaria giurisdizione, amministrazioni di sostegno, materia tutelare, esecuzioni mobiliari. Presso la sezione del borgo resteranno quelli in corso circa 300 procedimenti civili e ordinari. È stabilito da un decreto del Tribunale di Arezzo dello scorso 9 aprile. L'Unione dei Comuni farà ricorso, impugnando il provvedimento dinanzi al TAR con la richiesta di una sospensiva. Del resto il Ministero, con una circolare dello scorso 19 maggio, ha concesso la possibilità di ottenere una proroga di 5 anni alla soppressione degli uffici pericerici. L'Associazione Avvocati della Valtiberina Toscana, nel notificare quanto prima l'impugnativa al Presidente del Tribunale di Arezzo, dottor Dario Centonze, spera di ottenere l'udienza di discussione prima possibile, un incontro ufficiale col Presidente e per venerdì 19 aprile alle 10.30, davanti al Tribunale di Sansepolcro, gli avvocati hanno organizzato una manifestazione di protesta.